bella Ciro bella buona buona dai ciccio gioca tu in attacco fai giocare lui a centrocampo dai veloce roba e scendi scendi roba e fatti bravo 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 bravi dai vai centrale Simo vai centrale Diego scendi Roby esci Gianmarco Dio Ciro bravo 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 dai Simone rimani la Simone ho primo pressing lo tuo allenatore resti dell'area tecnica per favore ho 2 di là dai 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 Grazie a tutti.